musica 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 Ilaia eeeh asciugami niente le mosse che dobbiamo andare questo disgrazzaggio non funziona dobbiamo comprarne un'acqua beh effettivamente hai ragione dobbiamo trovare una soluzione per qui perchè se no... ciao adesso andiamo perchè siamo in ritardo inizia la nostra carina bella è vero ragione andiamo guardiamo un po' di televisione buonasera e ben ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con Bentaniaflex oggi vi offriremo un prodotto rivoluzionario per le vostre case ecco qua il nostro magic life betaclare che rivoluzionerà la polizia di tutte e voi casarine italiane non dovete preoccuparvi di nulla niente più macchia e niente più incostrazione su betaclare pensa a tutto allora ci passiamo subito ora al numero zero nove zero sei due quattro betaclare portafoglio risparmiato mamma ma sai che è quello è un prodotto fatto apposta per noi forse hai ragione beh come sempre prendete il rete non chiamano e fate le mani del rete oh abbiamo trovato abbiamo trovato pronto siamo in betaclarex scusi vorremmo ordinare un betaclare per favore si grazie arrivo subito uno perfetto gli arriverò subitissimo ciao arrivederci buona giornata bene betaclarex non si sentisce mai mai vostro betaclare grazie wow aspetta è vuoto ma scusi scusi ma c'è un'altra foto come facciamo adesso mamma guarda è vuoto hai ragione so io cosa fare chiama don gilì aspetta un attimo ciao elaria pronto don gilì ci serve una mano si arrivo subito ilaria piace le tastine? si mamma eccole eccomi avevate bisogno? no non vi meno male che arrivato tra una cosa e l'altra non riusciamo più a gestire la casa con la figlia il lavoro un sacco di cose che dobbiamo fare ma poi tra l'altro abbiamo preso questo betaclarex dalla televendita solo che non funziona non so perché è stata una vera truffa questa televisione non c'è nessun problema ci penso al mio IGD un telefono il foro è toccato per esempio stai facendo il caffè? si con IGD non dovrai più usare la moca puoi usare una semplice applicazione oh per esempio con una semplice applicazione potete avere un coltello e voilà wow grazie e può pulire anche le staviglie di casa vediamo che può raccogliere qualsiasi oggetto da terra si capisce? si grazie GB finalmente possiamo liberarci di questo betaclarex che non serve a niente ah Ilaria eh non serve a niente scusa almeno ci siamo liberati quanto costa questo IGD? 1500 euro a testa Fide? cavolo non è un po' tantino? ci saranno a te mille anni di purgatorio beh però va bene va bene va bene aspetta ecco qua il vostro IGD grazie mille IGD gentilissimo grazie Ilaria ti metti i finisci minuti per la pasta di venti si wow fatto guarda in un attimo eccezionale dammi che però voglio adesso mio mio ma vedi che ho sbagliato tutto come al solito tu non sai neanche cominciare ma è il numero si 4 1 4 no no i numeri erano cambiati te l'ho detto ieri chi è bene? ma cambiate se no questa ragazzi guarda basta si sei da qui? eh sentiamo va bene va bene questo non preghi grazie passale no ci più den